Sarà un Natale amaro per alcuni aquilani che saranno costretti a ricomprare i regali di Natale dopo la visita dei ladri al centro di distribuzione delle poste in località Centicolella. I ladri hanno portato via in sostanza i pacchi Amazon con i regali di Natale più costosi. Probabilmente il loro vero obiettivo era quello della cassaforte dove però non hanno trovato il bottino che speravano a quel punto hanno deciso di buttarsi sui pacchi Amazon contenenti i regali di Natale scegliendo quelli che dalle indicazioni apparivano come più costosi contenenti soprattutto articoli di tecnologia. I ladri dopo aver fatto razzia di regali di Natale sono riusciti a fuggire. Le indagini vengono portate avanti dalla squadra volante della questura diretta dal dottor Giuseppe Maria della Ragione. Però sono molto difficili a causa delle telecamere di videosorveglianza che sono state manomesse. A scoprire il furto sono stati i dipendenti della struttura al loro arrivo la mattina.